ciao ragazzi ciao ragazzi bentornati sul canale oggi nuovo video e questo sarà un video un po diverso dal solito che non ho mai fatto che è il video sulle mie cover allora ho cambiato da qualche mese il telefono e ovviamente mi sono sbizzarrita con l'acquisto di cover perché io amo fondemente le cover principalmente le ho acquistate da aliexpress e siccome è capitato che magari faccio una foto o in un video vedete il telefono vedete la cover e mi chiedete dove l'ho acquistata quanto l'ho pagata eccetera eccetera ho pensato di fare un video in cui ve le mostro quindi vi lascio l'ospensione di video in cui vedete tutte le mie cover quanto le ho pagate e dove le acquistate e noi ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao